I consiglieri comunali di opposizione Andrea Ravagni e Bruna Todeschi di Arco intervengono su due punti dell'attualità politica. Il rondò, previsto dal piano urbano della mobilità, ma da anni contestato, e il piano attuativo del rilinfano. La situazione viabilistica arcense, ereditata dal vice sindaco, era pessima, scrivono, ma ora il tentativo di porvi rimedio è peggiore, peraltro continuando in maniera costante ad affidarsi sempre al solito progettista esterno. Le migliaia di firme raccolte contro il rondò per questa amministrazione sono carta straccia e si continuano imperterriti su questa strada. A questo punto non rimane altro che riproporre il referendum sul PUM. Sull'infano Ravagni e Todeschi sostengono che il dover ritornare in prima adozione e votare il piano attuativo dell'infano è sicuramente un grave errore da parte della pubblica amministrazione di Arco, che comporterà evidenti ritardi. La mancanza della valutazione ambientale strategica in prima adozione, ora da rivuotare, denota in maniera inequivocabile che qualcosa non sta funzionando a dovere.